Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il re dell'arista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1974, la polizia chiede aiuto. Un adolescente Silvia Polvesi viene trovata impiccata in una soffitta dopo la telefonata anonima di un uomo. Le indagini vengono iniziate dal commissario Valentini e continuate dal collega Silvestri. Il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, le interpretazioni e la sceneggiatura. Eligenere Thriller, la durata è 1 ore e 30 minuti, il regista è Massimo Dallamano, la regia è buona, bravo regista. La data di uscita è il 10 agosto 1974. L'attrice è Giovanna Ralli, brava attrice, nel film anche Claudio Cassinelli e Mario Adorf, Farley Granger, Franco Fabrizzi, Marina Berti, Sherry Buchanan, Paolo Turco, Corrado Gaipa, Micaela Pignatelli, Attilio Dottesio, Nando Murolo, Salvatore Puntillo, Renata Moar, Eleonora Morana, Roberta Paladini, Luigi Antonio Guerra, Adriana Falco, Clara Zoyanov, Stephen Zakarias, Leonardo Severini, Giancarlo Badessi, Francesco Lala, Luciano Zanussi, Bruno Alias, Giuseppe Marocco, Lorenzo Piani, Edmund Purdom, Michael Forrest. Mi sono innamorato di una e ho paura di perderla, vi spiegherò tutto più tardi. Saluto tutti i miei fan, Mami Santa, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.